1.000 euro alla Caritas di Piacenza per aiutare i nuovi poveri da Covid. L'assegno è stato donato dai club Lions e Leo attraverso una campagna benefica online promossa nelle scorse settimane. Abbiamo deciso come Lions piacentini della città e della provincia di lanciare questa raccolta fonti per le persone in difficoltà, le famiglie in difficoltà in seguito alla pandemia. Abbiamo l'obiettivo di raccogliere 10.000 euro da qui a Natale di quest'anno e poi periodicamente, oggi al primo appuntamento, doneremo 1.000 euro alla volta sia alla Caritas per la provincia e all'Emporio Solidale per la città.